Ok, c'è il martello, ok? Uno, e torno, e due, e torno, ok? Uno, 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 la testa per terra, uno, uno, la testa per terra, uno, 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 la testa per terra, uno, uno, la testa per terra, uno, così, Flavio, saltiamo, e uno, e uno, e uno, e uno, vai carnava, adesso così, uno, vai ragazzi, su, 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 vai, 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 torniamo qua, torno, torno, vai, vai, metti il martello, piano, uno, e due, così, risentiamo qua, uno, uno, e due, uno, e due, e uno, e due, uno, e due, adesto, su, 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 su piano piano adesso uno vai così vai ad uno non lo puoi attenere la testa solo devi solo schiorare su su bravissimi